Salve a tutti e benvenuto a questo nuovo video, io sono Misty Kamarim. Oggi voglio presentarvi insieme a lui un esperimento che facevo sempre da piccolo, non so come definire, fosse un blob, scusatevi da pettino a duro, sto prendendo adesso da notte, un blob, un blocco fatto con della farina e questo ingrediente particolare. Adesso andiamo a vedere cosa succede mescolando un po' queste sostanze tutte insieme, ma non lo farò io, lo farà lui. Quindi cominciamo prima con la farina, adesso la farina qui dentro, insieme un po' di colorante, vai, e si butto. Si, la farina dentro, qui si butta tutta la farina, tutto, tutto. Si, però tutto. Mettiamoci un po' di colorante qui. E' un po' uscita quella, quella. E' un po' uscita quella, quella. E' un po' uscita quella. E' un po' uscita quella, quella. Questa sembra cioccolata. Eh, si. Potrebbe sembrare anche cacca. Oh, si è felice. Ok. Fatto? Si. Chiudiamo. Ci c'è ancora. Eh, mi hai persato tutto. Ok, vediamo. Ho persato tutto. E' un po' uscita che sembra cacca. Sembra cacca colorata. Ok. Con il bastoncino, mescola, vai. Anche sul colore. Vai che ce lo mettiamo tutto, va. Ok, vai. Tembra che stiamo facendo le slime. Vai, mescola bene, mescola bene. E' qui, guarda. E' bellissimo, bellissimo il cioccolato. Qui c'è Vinaville e acqua che già ho preparato in proporzioni 50 e 50. e ci mettiamo. Sembra latte. Eh, sì, Vinaville. Eh, ok. E' colla? Sì. E poi mescoliamo. Eh, ok, mescola tutto. Bene, bene. Intanto non puoi uscire fuori, visto che tanto puoi uscire. Eh, non lo so. Sembra che stiamo facendo cereali. Io da piccolo faccio solo con farina e acqua. Sembra che stiamo facendo cereali, guarda. Guarda, dà un po' più di energia e di spettrosi. Un po' più di energia. Così. E così. Vedi, si vede anche la difesa di colore. Oh, qua non si vede però. Eh, forse perché non ce n'è molta. Questa. Questa scende. Ok. Qui c'è colla. Sì, sì, vai, vai. Uh, ecco, 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 ecco. Ok, vai, conti, vai, più energia. Così? Sì, bene, ci esageriamo con l'energia. Anche noi. Andiamo in corto circuito. Ok. Ma sembra un po' di cioccolata, sembra cioccolata. Questa sì. Questa sì. E qui ce n'è di più di varie, eh. E butta un poco di qua, è bello. Ah. Effetto notte. Di messo. Ok. Ah, ora è cioccolata. Eh, mess quick. Oh, è vero. E questo che ce ne facciamo questo pezzo? Buon'idea. Ok. No, sei inguacchiato, scusa. Sei inguacchiato. E' importante è non inguacchiare per te. Come, come faccio adesso questo pezzo? Sei incollato? Eh, non fa niente. Vai, continua a mescolare, conti. Vediamo un po', vediamo. E' abbastanza omogeneo. Ah. Profumo proprio di colla, eh. Cosa? 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 Ok. E adesso vediamo che succede. Quale cioccolata? Eh. Adesso vediamo che succede mettendo l'ingrediente. segreto. L'ingrediente segreto. Questo è l'introdentina. Mio padre era piccolo. E poi con questo che... Si rimpula. Mi faceva la pancia. E con questo che facevamo... E io ogni tanto mi andavo a rubare qualche bustina e mi metteva giocato. E con questo che facciamo l'espetto delle spezie di mezzo? Eh. Allora. E dai una mezzo. E dai una mezzo. E apriamo. Due. Abbiamo sporcatto. Quando lo dico io, butti dentro. Tutto. Siamo pronti. Mettiamoci un po' più di qua. Così si vede meglio. Sembra il ghiaccio. Ho riso. Vedelo. Si. Vediamo più al centro. Si guarda. Sembra il ghiaccio. Dove siamo pronti? Il ghiaccio è bene. Sei pronto? Si. Via. Ma sembra che... Si. Oh. Guarda. Eh. Boh. Muoi mescoliamo un pochettino. E vediamo che succede. Non credo. La pittoria dovrebbe bollire. Vediamo un pochetto. Ecco qua. Oh. Sta salendo. Si. Guarda qui. Sale. Guarda. Sta bolle. Sta salendo. Cresce. Non finisce più. Vedi. Guardi. Sembra tipo... La cosa che non finisce più di... Guarda. Sta continuando. Si. Adesso. Se ne mettiamo ancora quello è un continuo. Proviamo? Non lo so. Tanto forse anche il segno di bustine. Vai. Vediamo. Vediamo. Se continua. Se continua. Se continua sarebbe... Seca. Senti. Si. Oh mamma. Guarda qui. Sta sgonfiando per adesso. Vai. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui che quel... Adesso sta crescendo. Aspetta. Ok. Mi sta sciogliendo sto cosa. Si sta sciogliendo sto cosa. Questo è la. Cresce. Non finisce più. E mescola mescola mescola. No. Guarda qui. È molla. Si. Fammi toccare. È schiuma. Si. È schiuma. È schiuma. una colorata non riesco neanche più metterla nei bordi sale 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 sempre mettiamo c'è ancora qui l'ultima un'ultima come si faccio che guarda che c'è ancora ora vediamo oh mamma mia pieno sta crescendo non fa vi sta cadendo sta cadendo si è venuto sempre più schiuma sai che ti dico vuoi si buttato? ti vuoi stare un po' qui siamo pazzi ci siamo pazzi qui vada 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 oh mamma mia ancora non finisce più di crescere ancora? continuo io si 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 vieni 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 c'è cosa qui? ormai è pieno non si può più fare più oh guarda qui sta crescendo ancora sta per andare fuori guarda sembra tipo quel serpente ma questo non finisce più quello ormai finisce fa tipo un serpentino e finisce qua invece no continuo e sembra sembra tipo sabbia immobili sì sabbia immobili però di sabbia fa così e poi cresce sempre di più mi sa che sta uscendo un po' di fuori basta però basta eh ma si dovrebbe anche scomigliare se si potrebbe mangiare se si potrebbe fare un finito oh mamma sta crescendo c'è un esperimento è un po' strano papi stava qua in fondo e è arrivato qua ci metti un po' a salire però deve almeno aspettare 5-6 minuti guarda ma si gonfia si gonfia si gonfia e poi guarda oh oh no 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 papi basta basta con questa roba perché sta cadendo tutto sta cadendo tutto ma non lo so se si ferma più eeeh se non ti ferma più alla fine nel mondo sarò ricoporti di sta roba e qua si ferma no a me sembra una panna di cioccolato tipo un estrem Proxima La mousse Mi sembra mousse Non ci sto più fermando Quello continua a gonfiarsi Perché ne abbiamo messo troppa Troppa Guarda qui Sta tutto ai bordi Sembra quelle scatolette Piena di Nesquik Guarda la colla dove è arrivato Quello è colla Ma per me si asciugava Ma è bollente no? No È fredda Bolle per effetto di anidride carbonica Questo qua Produce anidride carbonica Ma ci facciamo una troppo Ma si si Ma si Cacchie serba Sì tanto questa robaccia Ma si Aiuto Aiuto Sì sì lo so È pieno Oh mamma mia Oh È pieno Vabbè Oh mamma Vabbè è pieno Basta Sta crescendo ancora Non finisce più Sembra Sembra che noi stiamo creando Della Della spugna E quando si asciuga Diventa spugna Sì Spugna Vabbè è piena marrone Sì è indurito Sì è indurito Campionese indurisce Ma lo aspettiamo Lo mettiamo nel freezer E vediamo cosa succede Ok Sì E scusa Se cosa sarebbe Sto esperimento Vedremo Solo della roba Crescere Ma se noi Diventeremo Ghiacciato Ok lo facciamo asciugare Vai Appena asciugato Lo mettiamo nel freezer Ok E dopo due minuti Vediamo Crescere No E no perché abbiamo messo Altri due pacchi